Il vescovo impone le mani e il documento dice per l'imposizione delle mani ricevono la partecipazione dello Spirito Santo e il penitente è a posto. Ecco, questo è un documento che fa molto meditare sui costumi genuini più antichi della Chiesa e da cui bisogna partire per capire bene qual è l'essenza del sacramento. Io direi, la grande lezione del passato è questa. Prima la conversione, poi il perdono. Prima la riparazione, poi la soluzione. Che sia importante la conversione lo dice la voce del buonsenso. Non si può dar perdono se non c'è il pentimento. E il pentimento deve avere delle prove. E se non ha delle prove il pentimento, è una buffonata. Anche per me, colpevole, io non posso giocare al pentimento. Io devo darmi delle prove che sono pentito, perché solo così si calma la mia coscienza. Dal sacramento deve partire qualcosa di nuovo. Il sacramento o è volontà di conversione o è buffonata. L'atto scomodo del sacramento è rientrare in sé, tornare a Dio, la resa a Dio. Questo è l'atto sacro del sacramento. Secondo, la voce dell'esperienza di ogni convertito. Se voi avete incontrato dei convertiti, e i sacerdoti più dediti al ministero ne incontrano con grande frequenza. E sono, per me sono la più grande consolazione della nostra vita da prete. Un convertito vi fa dimenticare tutti i sacrifici, tutti i sacrifici. Forse qualcuno superstizioso dice, Satana, che disturba! E invece è solo Valentina che ha sbagliato la mossa. Dunque, la voce dell'esperienza di ogni convertito. Non basta tagliare col peccato, bisogna consegnarsi a Dio radicalmente. Io è questo che ho imparato dei convertiti. Il convertito è sempre un radicale che ci dà. Ho davanti a me in questo momento un ragazzo, mica più un ragazzo, il pesce più grosso che Dio ha messo nella mia rete questi mesi. Uscito dal male, ma proprio era immerso fino al collo. Uscito dal male, gli insegno la preghiera del cuore e lui mi dice, sì, adesso ho capito, adesso comincio. Gesù ha detto, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Io adesso voglio dar tutto ai poveri e mi verserà sul tavolo tutti i suoi milioni. Tutto per i poveri. E tu come vivrai? E io mi abbandono alla provvidenza. Io ho preso, messo in banca, poi ho mandato a chiamare sua figlia, che doveva sposarsi. Gli ho detto, senti, io poi i soldi, se hai bisogno vieni poi. Ma tuo papà mi ha consegnato tutto. E lui si tuffa nella preghiera, si tuffa nella parola di Dio. Io non ho potuto più fermarlo. I convertiti sono lo strazio di noi preti, perché ci danno delle lezioni, ma delle lezioni. Dunque questo qui affitta, si fa imprestare una casetta in campagna e poi si dedica dal mattino alla sera alla parola di Dio. Passa la bellezza di sei, sette ore sul Vangelo di Giovanni. Ha preso il Vangelo di Giovanni. Preghiere e parola di Dio. Sei, sette ore al giorno. Carità e preghiera. Preghiere e carità. E lui sente che ha bisogno di far così per riparare tutto il suo passato. Deve darsi a Dio radicalmente. E allora strappato radicalmente dai soldi, buttato radicalmente nella parola di Dio e nella preghiera e a servizio completo dei poveri. Questa realtà è perché il peccatore ha bisogno proprio di provare a se stesso che la vita è cambiata. Bisogna entrare però nella forza di Dio e il ruolo della preghiera è fondamentale. Consegnarsi a Dio radicalmente perché è lui che fa tutto. Chi calcola, chi si gingilla con la sua volontà, chi non si compromette con Dio, non ce la fa. Quindi la conversione deve essere un consegnarsi a Dio. Questa è l'esperienza dei grandi convertiti, ma dei piccoli convertiti. Anche voi siete dei piccoli convertiti. Voi avete capito certamente in certi momenti importanti della vostra vita che per cominciare una vita nuova non bastavano dei cerotti, delle piccole decisioni. Bisognava delle incisioni profonde, dei tagli netti e poi bisognava sostenere con tanta vita nuova, con preghiera, eucaristia, questo passaggio. Questa è l'esperienza dei convertiti e di tutti i convertiti, anche di noi, se ci guardiamo dentro nel nostro passato. Terzo, la voce della pastorale intelligente e attenta. Il sacramento è uno sguardo profondo non tanto al passato, ma soprattutto al presente. È questo che dobbiamo capire noi e far capire alla gente. Non è tanto il passato che conta, intanto non lo aggiusti più, ma è il presente che conta e nemmeno il futuro che è nelle mani di Dio. Non è pienucolando sul passato che risolviamo i problemi, ma prendendo bene in mano il presente, gestire bene il presente. Le analisi sono di moda, ma un'analisi del mio passato non mi dà la forza che viene da una decisione precisa per il presente. Ecco, e allora la tua conversione deve avere ben netto la tua debolezza presente, come recuperarla, come metterla a posto, e non cruciarti troppo del passato, intanto il passato è passato, è quel che ti rimane però davanti a Dio e anche davanti alla tua dignità umana, è il presente, ed è il presente il punto forte del sacramento. Quarto, la voce della psicologia onesta e intelligente. Occorrono decisioni, non parole, per cambiare la vita. occorrono decisioni concrete, proporzionate, intelligenti. Qualcuno mi chiede di spiegare queste decisioni concrete, ma le decisioni concrete sono quelle che ti mantengono in piedi, quelle che capisci dalla tua esperienza, che servono, proporzionate. ecco, ho una vita caotica, ho una vita caotica, non so, nel campo orgoglio, ma tu devi prendere qualcosa di proporzionato al tuo sbaglio. Intelligenti, le decisioni devono essere intelligenti, devono colpire nel segno. Se nel sacramento non avvengono decisioni, nel sacramento non accade nulla. Vorrei che aveste sentito tutti per la vostra confessione di domani. Se nel sacramento non avvengono decisioni, nel sacramento non accade nulla. Ma Grassi ha una battuta fortissima, dice se non c'è l'acqua non avviene il battesimo, anche se dico le parole. Se non c'è il crisma non avviene la cresima. Se non c'è il pane e il vino non avviene l'eucarestia. E se non c'è il pentimento non avviene il sacramento. E il pentimento è legato alle tue decisioni. E dopo le decisioni occorre trovare i mezzi che fanno da supporto alle decisioni. I mezzi, cioè, capaci di sostenere le decisioni. Per questo vi ho detto dovete fissare la vostra regola di preghiera come primo proposito della vostra confessione. La regola di preghiera darò tanto tempo così alla preghiera. La verificherò nella sua vitalità di tanto in tanto ogni settimana, ogni mese. La vostra regola di preghiera è fondamentale per la vostra conversione. Perché una conversione non regge se non c'è una regola di preghiera. Cristo chiede sempre decisioni concrete. Si entra in comunione con Cristo solo attraverso decisioni concrete. Vieni e seguimi. Decisione concreta. Va, vendi, dai poveri. Decisione concreta. Non peccare più. Decisione concreta. Taglia la mano. Decisione concreta. sentite un grande psicologo Viktor Frankl e voi preti quando avete un giovane che si laurea in psicologia raccomandateli di fare la tesi su Viktor Frankl. Viktor Frankl non è un cristiano, è un ebreo, però ha tutta la sapienza cristiana nella sua psicologia. È una psicologia fenomenale. Io direi che è quello che ha adrezzato Freud e una volta gli hanno detto sì, tu sei niente rispetto a Freud. Notate, lui era alla scuola di Freud. Tu sei niente rispetto a Freud e lui ha risposto così ricordatevi di una cosa, un nano non è niente riguardo a un gigante, però un nano se si mette sopra il gigante vede più lontano del gigante. e lui è il nano rannicchiato sul gigante. Sentite cosa dice Viktor Frankl. I libri di Viktor Frankl sono di una peziosità straordinaria per i giovani. Consigliateli più che potete. Fate leggere molto le sue esperienze nel Lager. Sono commoventi. lì sì che trovate la preghiera del cuore concreto. Viktor Frankl dice in ultima analisi l'educazione dell'uomo sta tutta qui. Imparare a decidere. L'uomo si forma solo nel decidere. Imparare a decidere. Quando l'uomo decide è proprio uomo e finché non decide non è uomo è burattino. E sentite un grande maestro di spirito Varion anche questo è un grande maestro di preghiera moderno francese Gesuita Varion sentite cosa dice Varion Varion dice in noi tutto ciò che non è decisione è segatura in noi tutto ciò che non è decisione è segatura e sentimentalismo è cosa trascurabile il valore dell'uomo è le sue decisioni sta tutto nelle sue decisioni e dice la mia vita reale è un tessuto di decisioni sono le decisioni che ci costruiscono giorno giorno per giorno voi siete qui per una decisione voi avete osservato il silenzio rigorosamente per una decisione qualcuno sta slittando per favore tornate al silenzio rigoroso ma tutte le cose buone della vostra vita dipendono tutte dalle vostre decisioni sono dipese tutte dalle vostre decisioni e continuamente noi ci costruiamo solo attraverso le decisioni e nel sacramento questo deve essere un punto evidenziato al massimo io devo arrivare a delle decisioni intelligenti concrete e proporzionate dico proporzionate perché se avete rovinato la vita ad una persona mica potete dire decido di dire trave Maria giorno per lei dovete far qualcosa dunque sono le decisioni diceva Rion che ci costruiscono giorno per giorno minuto dopo minuto decisione dopo decisione e le decisioni devono essere immerse nella preghiera devono partire dalla preghiera perciò vi raccomando da questa sera cominciare a pensare alle vostre decisioni e alle vostre riparazioni la riparazione è necessaria per dare sicurezza alla decisione per dare garanzia al pentimento occorrono le riparazioni ecco questo era la cosa più importante che desideravo dire come ultima preparazione domani faremo lo studio del grande documento riconciliazione e tenitenza per scoprire bene altri aspetti da tenere ben presente nel sacramento adesso io vorrei anche mettere a vostra disposizione dopo l'adorazione un esame di coscienza un esame di coscienza strano introdotto così per prepararti a ricevere il sacramento del perdono la chiesa ti chiede di esaminare la tua coscienza confrontandoti con la parola di Dio tutto il messaggio di Cristo può essere riassunto in due importanti pagine il testo delle beatitudini e il testo sull'amore di Dio del prossimo ti presentiamo una traccia efficace per la tua preparazione al sacramento l'esame di coscienza sulle beatitudini non sui dieci comandamenti perché è con Gesù che devi confrontarti se ti confronti con Gesù di sicuro ti confronti con Mosè ma è con Gesù che devi confrontarti e Gesù ha il suo parametro di confronto sono le beatitudini allora vi propongo l'esame di coscienza sulle beatitudini vi dico però una cosa scandalosa non leggetelo non leggetelo tutto perché perché vi vi squinterna è un pacchetto di dinamite questo ciclo stirato è un pacchetto di dinamite perché se vi confrontate con tutte le beatitudini arrivata alla fine non ce la fate più ma è logico quando guardiamo negli occhi Gesù Cristo siamo smarriti siamo smarriti tanto lui è esigente invece per favore consultate questo esame di coscienza andando alle piaghe interrogatevi qual è la mia piaga non so la mia piaga per esempio è la violenza ecco allora scegliete beati i miti e leggete lì le beatitudini vi setacciano tutto leggete lì i beati i miti cosa dovete andare a indagare attraverso beati i miti perché erediteranno la terra siete orgogliosi non so prendete la beatitudine beati i poveri siete sensuali beati i puri di cuore fate fate insomma prima di tutto il sondaggio di qual è la vostra piaga e poi cercate in questo dossier sulle beatitudini la beatitudine che rispecchia e sorvolate il resto invece quando vi siete confessati allora leggete leggete questo esame di coscienza perché lo leggete prima vi scoraggiate ma è logico se ci confrontiamo con Gesù siamo falliti su tutta la linea allora vi consiglio questa tattica poi metto anche a disposizione per i religiosi un esame di coscienza sui voti religiosi perché il religioso ha anche da esaminare i suoi voti ecco allora dopo l'adorazione metterò sul tavolo gli esami di coscienza e cominciate il vostro lavoro e vi raccomando una cosa per favore rispettate il silenzio del deserto perché adesso è il momento buono in cui avete più bisogno di silenzio e poi un'ultima raccomandazione l'ultimo messaggio come preparazione efficace al sacramento avere tanta gioia tanta gioia e tanta gioia perché Gesù ha detto che c'è più gioia in cielo per un peccatore pentito che per 99 giusti che non si pentano bisogna fare festa ha detto Gesù bisogna fare festa uccidere il vitello grasso e speriamo che domani sera le suore ci uccidano il vitello grasso e così facciamo proprio festa allora per favore custodite il sacramento bene custodendo il silenzio e coltivando la gioia perché il Signore ha bisogno della vostra gioia per celebrare il perdono ecco adesso facciamo grazie a tutti Grazie a tutti.